ciao a tutti oggi sono voluta venire a vedere di persona lo stato di avanzamento dei lavori di casa l'ilte e ve lo dico sono tanto emozionata di trovarmi qui in questo cantiere e vedo già quello che sarà in futuro noi tra pochi mesi inaugureremo casa l'ilte che vuole essere il più grande specializzato polo di prevenzione oncologica di tutta la brianza quindi raccoglieremo un bacino veramente grande di utenti e questo lo facciamo grazie al vostro aiuto pensate questa mattonella ad esempio potrebbe essere vostra quindi aiutateci anche perché io sostengo da tantissimo tempo i progetti di l'ilte mi sta tutto molto a cuore e so che lo sta anche a voi quindi pensate a questo centro a quello che faremo potremo fare prevenzione primaria secondaria terziaria assistenza psicologica ai malati ma anche alle famiglie dei malati quindi contribuite continuate ad aiutarci e veramente tanti tanti sassolini costruiranno davvero un progetto enorme